Questo è il momento del mio caffè, sono ore 11.05. In anteprima vi dico e vi comunico che la puntata del mio Toll Show digitale Riflettiamo Mangiando è andata pubblicata su YouTube sul mio canale Alessandro Corbelli, come al solito, nella playlist del Toll Show di Alessandro Corbelli Riflettiamo Mangiando. Oggi troverete verso le ore 18 la pubblicazione live social, quindi sintonizzatevi su tutti gli account live social miei, le redazioni, i vostri e troverete lì live la puntata pubblicata dal canale YouTube. Oppure andate sul canale YouTube, iscrivetevi e vedete tutta la mia puntata, veramente unica, bellissima, dove Tarquinia, la città dalla quale è stato girato, ha fatto veramente da fata. Vi aspetto oggi, buon divertimento e buon weekend a tutti. Buon caffè. Grazie a tutti.